Ciao a tutti, bentornati ancora una volta a parlare di libri. Da quanto tempo, da troppo tempo effettivamente sì, mi sono vista costretta a riprendere a causa delle continue minacce che un esserino piccolino così ha continuato a darmi, tramite email, tramite i suoi messaggeri adepti, schiavi della sua bellità. Mi chiedo cosa avete fatto voi in questo periodo, io personalmente sono stata un po' impegnata, non ho quasi letto, nel senso che sono stata un paio di mesi, forse anche di più, senza leggere neanche una pagina. La cosa mi ha reso particolarmente triste, sì. Devo dirlo perché credo che la lettura aiuti molto spesso le persone a staccare da quello che vivono e mi avrebbe permesso di fare una sorta di viaggio parallelo a quella che era in realtà la vita ferma in un luogo che ho vissuto. In questo periodo ho ripreso a leggere ultimamente, grazie a Dio, forse da settembre, credo, dei primi di settembre o fine agosto. Da fine agosto ho ripreso a leggere... No, non era nemmeno. Allora, il primo libro del quale vi parlo, speriamo che non crolli tutto, ed è Le Intermitenze della Morte di José Saramago. Se l'ho letto male, insomma, se l'avessi letto male, potete rivolgere via all'ufficio stampa di Zuppla, insomma, a li mandare tutte quante le proteste. Allora, parlo prima di questo, poi magari sotto un box, se sostante vi scrivo tutti i libri dei quali parlerò, insomma, se non dovessero interessarvi, potete semplicemente cliccare sull'AX. Il più delle volte io credo che i libri tendano a riflettere quello che è lo stato d'animo del momento, però l'ho sempre pensato. Ci sono determinati momenti nei quali è possibile, è più facile, è più consono leggere un determinato libro piuttosto che un altro. Siccome era un determinato periodo, mi è sembrato giusto leggere quello di Saramago. le intermittenze della morte, che cosa succede? Siamo in un paese senza nome, è il 31 dicembre, scocca la mezzanotte, la gente semplicemente smette di morire. Voi penserete che smette di morire nel senso che diventano tutti quanti tipo superuomini, si buttano dai balconi, cadono e non si fanno niente. No, attenzione, si è detto che non muoiono, non si è detto che non si fanno nulla, quindi cadono, si sfracellano anche, tipo li devono ricucire, ma non si decidono a morire. È semplicemente questo. E il fatto, contrario alle norme della vita, ha causato un enorme turbamento nella popolazione, perché se all'inizio magari sono tutti contenti e felici, wow, non ci succede più niente, insomma non si muore, non c'è più questo, viene debellato il problema della morte. Poi ci sono dei problemi tecnici ed è questo il bello del libro. Il libro, dopo un'iniziale sorpresa, dopo un'iniziale ricerca delle motivazioni per il quale questo sta succedendo, vede la popolazione cercare soluzioni a un problema, perché è normale che poi se continuano a nascere i bambini, e chi è vivo non muore più, comincia ad essersi una sorta di sovrappopolazione. Poi i becchini, tra virgolette, insomma, chi si occupa della tumulazione non lavora più tanto bene, quindi è tutto un problema. scusate, c'è stata un'interruzione. Dove sono? Dove sono? Ma insomma, non volevo finire giocare a mosca cieca? Perché mi hai messo questa cosa in faccia? Perché? Perché? Cosa stai combinando? Stai combinando qualcosa alle mie spalle? Lo sei tu? Perché vuoi farmi del male? Mi hanno rapito? Non ti hanno rapito. Metti su sta cosa. Ho ancora questo turbante? Hai osato ingannarmi in questo modo mentre ero di là a fare il mio riposino di bellezza? Riposino di bellezza? So due ore che dormi. Non ti permettere, sai, di screditarmi davanti ai miei fans? Fans, avete visto? Sono ancora in giro vestita da matari. Non sei vestita da matari. Sei vestita da zupla. Ma questa storia deve finire assolutamente. Avete visto? Pur di togliermi i fans, mi ha tenuto il digiuno dai video. Cioè, mi ha proprio lasciato fuori. Mi ha tagliato fuori. Faceva i video e non me lo diceva. Capite? No. Aspetta. Un attimo. Mata. Aspetta. Come ti permetti? Lasciami il foulard. Ok. Mata, allora devi... Lascia il foulard! Ok. Calmati. Questo foulard è un po' ciuffo, no? Vedi? Non so se riesci a vedere. Così posso far finta di essere arrabbiata. Ah, quindi tu fingi di essere arrabbiata. Io sono arrabbiata. Sono davvero adirata con te. Capito? Non è che io facessi video e non ti avvisassi, cara zupletta. È che non le facevo affatto. Non giravo video. Non avevo di che parlare. Invece per si può più parlare di me. Delle mie vacanze. Della mia estate. Della mia bronzatura. Ormai perduta. Dei miei abbronzanti preferiti. Potevamo fare un videotag dei miei prodotti sì e no del mese. Ma questo non è un canale di make-up. Guarda, io non ti rispondo. Perché in realtà sono i miei fans che mi chiedono assolutamente di rivedermi. Io sono qui per parlare di un particolare libro. Uno. Solo uno. Solo uno? Beh, sei arrivato un po' in anticipo perché stavo parlando di quello di Saramago. Di quello parli dopo. Prima parli di quello che dico io. Ma non ne devo parlare bene. Non mi interessa. Come? Fermi. Cosa? Cosa? Cosa hanno sentito le mie orecchie? Hai detto che non parlerai bene del libro della sorella dell'autrice di Gillette. Ma come ti permetti? Ignorante! Io non sono ignorante. Semplicemente ho dei gusti e non mi è piaciuto quel libro. Vogliamo dire a chi ci ascolta che il libro è? Vogliamo sollevare questo fulard alla mia faccia? Guarda, te lo metto così, eh. Sei carina. Ti piace? Ma vabbè, possiamo stare. Volevo dire come si chiama questo libro? Il libro si chiama Agnes Gray. Ma come lo pronunci? Così. E l'autrice è A. Ann. Ann Bronti. Ann Bronti. La sorella della mitica Charlotte. Oh, Gillette! Gillette! Quanto era bello! Eh, lo so, era bello. È piaciuto anche a me. Oh, era una storia fantastica. È così. Scritto così bene. Scrivono molto bene le Bronti, vero? Beh, sì. Allora, vi parlo velocemente di Ann Bronti altrimenti qui zupla non si toglie più dalle scatole. Dalle scatole io. Ma togliti tu dalle scatole piuttosto. Non metti in meno una faccia di video. Io almeno ci metto la faccia, ci metto i capelli, ci metto i miei foulard, ci metto le mie parrucche, ci metto il mio fisico statuario, ci metto le mie bellezze. Mi riparlo io? No. Per farla breve. La storia di Agnes Grey. Il libro, allora, sicuramente scrive bene. Sicuramente scrive meglio Charlotte Bronti. Giusto? Sì. Ok. Sicuramente scrive meglio Charlotte Bronti. Magari ti lasci un attimo spazio e vado a mettere la crema idratante per il viso perché mi sono appena svegliata, eh. Torno subito. Vabbè. Agnes Grey. La storia è scritta bene. Devo dire che Charlotte, almeno in villette, mi è sembrata molto pilotata nello scrivere. Scriveva molto meglio. Quando ho letto Charlotte ho detto mamma mia, questo è scrivere. Invece quando ho letto Anne ho detto ah, vabbè. La storia è quella di Agnes Grey che si trova a vivere in una famiglia non troppo agiata. Sua madre era molto ricca però ha sposato un uomo povero i genitori l'hanno diseredata e quindi la famiglia non è molto facoltosa. Suo padre è pastore, se non mi ricordo male. Vive a casa con suo padre, sua madre e sua sorella più grande e a un certo punto si trovano, visto che suo padre si ammala, a dover mettersi a lavorare per riuscire a guadagnare qualcosa. In realtà il padre non si ammala, in realtà il padre fa un investimento diciamo sbagliato, non entriamo troppo nel merito, un investimento che non va a buon fine e per svariati motivi quindi decidono di mettersi a lavorare entrambe pur di portare a casa la pagnotta, ecco, per farla proprio bene. Sua sorella è molto brava con i dipinti quindi comincia a dipingere e a vendere magari quello che lei riproduce mentre lei decide di diventare un'istitutrice e quindi si comincia a parlare di quelle che sono le sue avventure. Però insomma sembra di essere un po' in Lovely Sarah, non so se ve la ricordate, o in quei cartoni animati che si usavano nei miei tempi dove c'è la brava ragazza che è povera e costretta tra virgolette a lavorare, ma io non ci vedo niente di male, comunque all'epoca si vedeva qualcosa di male in questo, che è costretta a lavorare come istitutrice e i bambini che dovrebbero essere da lei curati, che se ne approfittano della situazione, quindi cercano di prevaricarla, non la rispettano, le rispondono male, fanno il comodo che gli pare, insomma mi ha veramente suscitato una serie di sentimenti poco carini con fronte di questi pargoli, tipo ginocchiate nei denti, calci nel sedere, ma veramente cose molto violente. Quindi ho detto, ma forse è meglio che smetto di leggere questo libro, nonostante io avessi superato la metà. Cioè a un certo punto, quando lei diventa istitutrice, è presso un'altra casa, e c'è un avvenimento in particolare, che vede il protagonista, una delle ragazze che lei segue, ho capito tutto il resto della trama. Cioè non lo voglio sapere, perché lo so come va a finire. Non l'ho finito. Come non l'hai finito? Scusa, ancora un po' la faccio umidiccia, aspetta eh. Sto stessa bene qui? Sì. Si vede il fondotinta, no? Avete visto? Non c'è assolutamente stacco con il collo e il viso. Sono stata molto brava con i miei pennelli. Ora vi faccio vedere i miei pennelli. Ma zupla, dove cavolo vai? Vedi qua. Che c'è? Non volete vedere i miei pennelli? Ditelo che non li volete vedere. Dite, non vogliamo vedere i miei pennelli? Come? Come? Non sento niente. Bene. Come si dice, silenzio ha senso. Vado a prendere i pennelli. No, zupla, vieni qua. Senti, ma che cos'è questo odore? Quale è l'odore? Sento un odore... ...di cibo. Hai fame? Ti sembra l'ora? No! Vabbè, che ti sei appena svegliata. Beh, in effetti dovrei fare colazione, eh. Non è che possono dire, mi fanno un po' come fanno i miei fans. Oh, mi sento mancati così. Questa è in gelosona e in videosura, mi direi sempre lontana da voi. Dunque, io sento un odore... ...di cibo. Di cibo, ok, che cibo? A me sembrano peperoni. Peperoni come? Peperoni... ...arrosto. Che cosa hai fatto? Niente. Sento un odore strano. Ma io sento il odore di peperoni, anche molto forte. Voi lo sentite? Lo sentite? Voi sentite? Come? Come dite? Ah, silenzio, silenzio, anche per voi. Lo sentite anche voi? Bene. Visto, lo sentono anche loro. Che cos'è? Non si può nascondere nulla, zupla, eh. Beh, alla fine sono una giraffina, eh. Nasino ce l'ho. Guarda che bel nasino che ho. Guardate il nasino. Guardate il nasino. Oh, un bel nasino. Beh, nasino. Non ti permettere. Ok. Prima preparavo da mangiare e mi sono macchiata alla maglia che sto indossando con il sughetto dei... Sughetto? Sughetto per dire, insomma. Con la salsa, diciamo, dei peperoni. Tu stai tenendo il mio corpicino con una maglia sporca di peperoni? Sì. E poi mi dici di fare la doccia e poi alzata? Ehm... Ti vuoi calmare? Non mi calmo. Non mi calmo. Io sono maltrattata qui. Fate una petizione su Avaz, su... su... Change.org. Fate una petizione. Liberatevi da questa mente catta. È una mente catta. Salvatevi. Salvatevi. Avete sentito quello che ha detto? Ho osato parlare, mare, del libro della sorella di Charlotte. Charlotte Amica mia. Perché Charlotte ha scritto Gillette. La finisci? La pianti? De gustibus. Non disputandum est. Ti sembra il momento di parlare spagnolo? Non è spagnolo. Sì che lo è. Lo dico io. È spagnolo. Est. Est sa molto di spagnolo. Perché esto è molto bello. Est. Esto è uguale. Va bene. Ehm... Te ne vuoi andare? Penso che mi rientro sì. Sono maltrattata. E fate una petizione per la mia parrucca. Mi sono stancata. Fate qualcosa. Cioè, sono due anni. Non ci può più. M'è te catta. Ciao. Mua, 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 mua. E' andata via. E quindi vi stavo dicendo ho preferito non continuare la lettura di Agnes Grey. L'ho abbandonato. Ok. Ritornando, scusatemi, a Le Intermittenze della Morte di Saramago stavo dicendo che l'ho trovato piuttosto interessante vi stavo dicendo forse dovrò riattaccare la parte di prima vediamo un po'. Comunque è la storia piuttosto bella solo che dalla da quello che ho letto si evince che lui non è che si evince a me sembra proprio palese che lui sia ateo. E' stato ironico se così possiamo dire Molte sono state le frasi che mi hanno colpito in questo libro e quello che colpisce di più è insomma che non veda la cosa come la fine della morte come qualcosa di bello affronta ecco il problema a livello il problema a livello tecnico organizzativo ora l'altra cosa che però devo dire non mi è piaciuta perché non mi è piaciuta in qualcosa è prima si parla di della morte mentre non la si non la si incontra nel libro poi quando si incontra la morte il libro prende una piega diversa ecco questa piega non me l'aspettavo e sicuramente si può essere in qualche modo originale ma non mi è piaciuta secondo me non andava bene con il resto del libro cioè si staccava dal resto del libro dall'idea del resto del libro quindi io l'avrei evitata grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.